Tutti i fallimenti di Gorbachev. La morte dell'ultimo presidente sovietico mette in luce la sua figura divisiva impopolare sia nelle repubbliche ex-sovietiche, che subirono la sua repressione armata, sia in Russia, dove infatti non ha avuto funerali di Stato, di Stefano Magni. Gli articoli e gli editoriali sulla morte di Gorbachev in questi due giorni dopo la sua morte sono tutti più o meno celebrativi. L'ultimo presidente sovietico fu l'uomo che pose fine alla guerra fredda, dunque viene ricordato soprattutto per il suo ruolo di pace. Ma non si comprende come mai in patria, sia in Russia che nelle altre repubbliche ex-sovietiche, si è ricordato con estrema ostilità. Benché rispettato dal nuovo regime, Putin stesso gli ha reso omaggio, non ha ottenuto funerali di Stato. È una figura ormai storica, divisiva e impopolare. Perché? Si fa presto ad affermare che Gorbachev sia odiato dai nostalgici dell'URSS, che con Putin sono tornati in auge. Certamente questa fu l'opposizione più visibile ed anche più violenta. Nel periodo dal 1985 al 1989 il KGB era ben consapevole dei limiti economici militari e strutturali dell'Unione sovietica. Fu il KGB a incoraggiare la promozione di Gorbachev a segretario generale dopo la morte di Ciarnenko, approvata poi dal Comitato Centrale con voto unanime. Gorbachev era già uomo di fiducia di Andropov, storico direttore del KGB e poi segretario generale dell'URSS dal 1982 al 1984. Gorbachev venne senizionato perché relativamente giovane e aperto di mente, ma fedele al sistema comunista. Il KGB stesso promosse e in un certo senso incoraggiò l'abbandono dei regimi dell'Est europeo con quella che venne informalmente chiamata la dottrina Sinatra, ciascuno per la sua strada. Tuttavia l'atmosfera cambiò repentinamente quando nei regimi ex comunisti le elezioni vennero vinte dai partiti non comunisti, a partire dalla Polonia. Esercito e KGB si coalizzarono per impedire che la disgregazione del blocco orientale divenisse disgregazione anche della stessa URSS e pretesero che Gorbachev imponesse l'ordine alle repubbliche secessioniste, anche proclamando lo stato d'emergenza. Il segretario generale usò la forza contro Kazakistan, Georgia, Azerbaijan, Lituania e Lettonia, ma rifiutò il cambio di passo preteso da militari e servizi. Fu questo rifiuto che portò al tentativo di golpe contro di lui nell'agosto del 1991. Il resto è noto. Il golpe fallì. Gorbachev ottenne una vittoria apparente ma di fatto aveva già perso il potere. Elstin, il presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa, si oppose in prima persona ai militari e divenne lui il leader politico carismatico della nuova stagione russa, che portò alla disgregazione dell'URSS. Dopo il collasso sovietico, esercito, ex servizi segreti, burocrazia statale non perdonarono mai a Gorbachev di aver causato il crollo dell'impero, di essersi lasciato sfuggire di mano il processo di riforme e decentramento che loro stessi avevano avviato. Nelle repubbliche ex-sovietiche, al contrario, non perdonarono a Gorbachev quelle ultime repressioni della stagione di sangue del 1986-91, volte a tenere assieme un urss in piena frammentazione. In Kazakistan ricordano gli oltre 200 morti civili del massacro di Alma Alta del dicembre 1986. Quando Gorbachev sostituì il segretario generale locale Dinmukhamed Kunaev con il russo Gennady Kolbin, i kazaki inscenarono proteste che vennero schiacciate con la forza delle armi. Gli armeni non perdonarono a Gorbachev di aver permesso o non ostacolato abbastanza i primi massacri compiuti dagli azzeri nel Nagorno Karabakh nel 1988 e 1989. Gli azzeri, al contrario, non dimenticheranno mai il massacro di Baku, il gennaio nero del 1990, quando le forze regolari e le truppe speciali del KGB entrarono nella capitale a zera per stroncare sul nascere il locale fronte popolare indipendentista e anti-armino, uccidendo tra 130 e 170 persone, in gran parte civili, tra il 19 e il 20 gennaio. I lituani non dimenticano la Domenica di Sangue, culmine di tre giorni di intervento militare sovietico contro la Repubblica Baltica, dopo la sua proclamazione di indipendenza. Mentre il mondo era distratto dalla guerra del Golfo, che sta appena iniziando, i sovietici, nella notte fra il sabato 12 e la domenica 13 gennaio 1991, tentarono di occupare la capitale lituana a partire dalla conquista della sede della televisione. La folla, inerme, oppose resistenza. Vi furono meno morti rispetto ai precedenti massacri, ma fu comunque traumatico, il tutto ripreso quasi in diretta dai media locali e internazionali. Contemporaneamente, per lo stesso motivo, i carri sovietici entravano anche a riga, ma dopo dieci giorni di confronto fra manifestanti ed esercito, l'armata si ritirò, non prima di aver fatto altri sei morti, fra cui due poliziotti lettoni. Se nelle Repubbliche ex-sovietiche vedono in Gorbachev l'ultimo dei dittatori occupanti, non meno repressivo dei suoi predecessori, anche i dissidenti russi tendono a considerarlo come uno storico bluff. Significativa la reazione di Kasparov, campione di scacchi e poi dissidente. Al momento della morte dell'ultimo leader sovietico, ha twittato, come giovane campione del mondo sovietico e beneficiario della perestroica e della glasnost, ho spinto ogni muro della repressione, per testare i limiti improvvisamente mutevoli. Era un periodo di confusione e di opportunità. Il tentativo di Gorbachev di creare un socialismo dal volto umano fallì, e grazie a Dio. Le pagine più drammatiche di denuncia le scrisse un altro dissidente, Vladimir Bukovsky, nel suo agli archivi segreti di Mosca. Per quanto ci affannassimo a spiegare che il sistema sovietico non era una monarchia e che il segretario generale non era uno zar, chi in quel momento non avrebbe comunque augurato il successo al nuovo zar riformatore? Delle centinaia di migliaia di politici, giornalisti e accademici, solo un minuscolo gruppetto conservò una sufficiente lucidità per non cedere alla seduzione, e un gruppo ancora più sparuto di esprimere apertamente sui dubbi. La repressione del dissenso interno non finì affatto con l'ascesa al potere di Gorbachev. Come documenta Bukovsky, dai file presi negli archivi del Cremlino, ancora nel 1987 il KGB organizzava campagne per arrestare i dissidenti, far fallire le iniziative a favore dei diritti umani, impedire l'ingresso di intellettuali attivisti stranieri. Il tutto era ordinato da Cebrikov, direttore dei servizi segreti, con il pieno appoggio di Gorbachev. Nella sua monumentale opera Gulag, la storica Ann Appelbaum ci ricorda come gli ultimi campi di concentramento vennero chiusi nel 1992, l'anno dopo la fine dell'URSS. Tipica di quel periodo è la vicenda di Bodan Klimchak, scrive la Appelbaum, un tecnico ucraino arrestato per aver tentato di lasciare l'Unione Sovietica. Nel 1978, temendo di essere arrestato con l'accusa di nazionalismo ucraino, aveva varcato la frontiera sovietica con l'Iran e chiesto asilo politico. Ma gli iraniani lo avevano rimandato indietro. Nell'aprile 1990 era ancora detenuto nella prigione di Perm. Un gruppo di congressisti americani riuscì a fargli visita e scoprì che in pratica a Perm la situazione rimaneva immutata. I prigionieri si lamentavano ancora per il freddo che dovevano patire e venivano rinchiusi nelle celle di rigore per reati come il rifiuto di allacciare l'ultimo bottone dell'Uriforme. Tuttavia fu un altro prigioniero politico ucraino, Anatoli Marcenko, che determinò un primo grande cambiamento nel sistema concentrazionario sovietico. Per protesta contro le orribili condizioni degli internati nei campi, intraprese lo sciopero della fame e fu lasciato morire l'8 dicembre 1986. La vicenda fece scalpore anche all'estero e Gorbachev si decise ad approvare un'amnestia generale. Non fu appunto la fine del sistema dei campi in quanto tale, ma la fine del gulag come metodo statale repressivo. Il Kagebe accettò, sia secondo la Appelbaum che secondo voci dissidenti come quella di Bukowski, perché l'amnestia ormai costava poco al regime. Non si doveva fare alcuna retromarcia ideologica. I prigionieri graziati dovevano comunque firmare delle dichiarazioni di pentimento. E giunti alla fine degli anni Ottanta, la dissidenza, ridotta allo stremo, non era considerata più un pericolo per il regime, come si legge dai documenti di allora. I dissidenti sono appunto una minoranza. La maggioranza dei russi ha pessimi ricordi di Gorbachev per le sue maldestre riforme economiche. Mi trovai ben presto, ricorda l'allora ambasciatore Sergio Romano al Corriere, ad osservare criticamente gli avvenimenti. Rimproveravo a Mikhail Sergei Gorbachev di non avere un vero programma economico. Va bene concedere più libertà, tutti erano giustamente contenti. Ma cosa fare del sistema di produzione collettivo? Lui parlò della creazione di una industria sociale, ma non spiegò mai in cosa consistesse. Gli anni di Gorbachev furono anni di ristrettezze e anche di proibizionismo dell'alcol, che aggiunse ulteriore disperazione a uno scenario lugubre di suo, con code per il pane e razionamenti. Particolarmente catastrofica fu la riforma monetaria del 22 gennaio 1991. A sorpresa, nottetempo, per stroncare i proventi del lavoro nero e del contrabbando, vennero confiscate tutte le banconote da 50 e 100 rubli. La procedura di sequestro permise di ritirare dalla circolazione 14 miliardi di rubli in contanti, ma bruciò i risparmi di decine di milioni di sovietici, soprattutto quelli più benestanti. Nell'aprile successivo, nel tentativo di riallineare il prezzo di stato a quello di mercato, tutti i prezzi triplicarono di colpo. Furono gli ultimi fuochi prima del collasso. Alla fine il cambiamento venne da quel che Gorbachev non fece, non impose più la censura sulla storia e sulla letteratura con la sua politica di glasnost. Per i sovietici non russi fu il momento di parlare nella propria lingua nazionale e di raccontare ancora la loro storia nazionale, compresi i capitoli più oscuri come il patto del 23 agosto 1939 con cui Stalin e Hitler si erano spartiti l'Europa orientale. I russi stessi poterono leggere gli orrori che avevano subito e di cui non avevano potuto raccontare nulla fino ad allora. Fu la verità, alla fine, che ebbe il sopravvento e determinò il crollo del sistema che Gorbachev voleva riformare.